E' un nuovo episodio di ModGraph con i bugazzini Per l'appunto, visto che oggi andremo a finire un po' di progetti e andremo più o meno a portarci verso la fine di essi Quello che voglio chiedervi come domanda del giorno riguarda i nostri progetti Allora ne ho scelti due da quelli che abbiamo al momento sul muro Che sono il sistema di creating con Red Power 2 Oppure l'ingrandimento e le modifiche della nostra casa Sono due progetti molto molto diversi Uno che riguarda più che altro le mod e come si utilizzano Invece l'altro è più sulla costruzione e diciamo sul bellimento della nostra casa Quindi potete scegliere fra qualsiasi dei due che sono scritti E ovviamente se avete degli altri progetti o delle altre idee che secondo voi potremo andare a fare O che secondo voi potremo andare ad aggiungere al nostro muro Potete pure dirmene E stessa cosa vale anche per le nostre piccole pixel art che ho visto che vi sono piaciute Quindi ne andremo a fare ad altre magari nel futuro perché ne abbiamo fatte un paio nello scorso episodio Quindi aspettiamo un po' prima di andare a fare altre Anche se sinceramente non è che ci serve veramente uno spazio Però non importa oggi voglio fare altro Comunque prima di continuare voglio anche leggervi il commento del giorno di oggi Che spero di pronunciare il nome giusto Se non sbaglio è GoldenSchool9095 Che ci dà un'idea piuttosto piuttosto interessante Allora l'idea che ci dà lui è quella di andare a creare questa super sfida Che è creare una casa degli iscritti o un posto degli iscritti Dove ogni mese andrò a premiare l'iscritto più attivo o gli iscritti più attivi Costruendo una piccola casetta a loro E magari mettendoci dentro un piccolo item preferito da parte loro O un item che loro preferiscono di una mod Lui qua fa l'esempio di Computer Craft E appunto potrebbe essere una cosa piuttosto carina da fare Perché allora questa cosa l'avevo iniziata più o meno simile anche nel let's play Solo che l'avevamo abbandonata perché richiedeva troppi item e troppe cose Invece qua in ModCraft la potremmo andare a fare Perché sia sarebbe una specie di ringraziamento per voi Che sapete che sono gratissimo Si può dire gratissimo non ne sono Sono grattugiato Sono grattugiato Che mi seguite così tanto E che mi supportate così tanto nei video E ovviamente stavo scherzando per il grattugiato Ma vabbè E appunto se vi piace come idea Ditemelo pure perché penso che la inizieremo con il prossimo mese Che è novembre Sì novembre Quindi siamo ora a metà mese Magari potremo iniziare come prima cosa nel prossimo mese Con questa piccola idea che ci è stata data da Golden School Lo ringrazio per il commento Vi ricordo che se lasciate un commento Anche voi avete la possibilità di essere il commento del giorno Deve essere giusto un'idea interessante O carina O divertente Che appunto possiamo andare a fare O che potrebbe interessare un bel po' di gente Quindi se avete delle idee Sparatele tutte nei commenti Comunque Prima di iniziare c'è un'ultima cosa che vi voglio dire Che è che Nell'episodio 130 Andremo a fare qualcosa di speciale Quindi Quindi se Voi avete qualcosa in mente O se vi piacerebbe vedere qualcosa Ditemelo Perché voglio iniziare a scrivermi tutte le cose E tutte le diverse idee E come possiamo dirlo Cose che vi piacerebbero vedere Per l'episodio 130 Perché? Perché sapete che Di solito ogni 10 episodi Cerco di fare qualcosa di speciale O qualcosa di diverso Giusto per un po' celebrare Celebrare Sì ho un problema a celebrare Appunto I 10 episodi Che sono passati Dall'ultima volta Quindi è giusto una piccola cosa E visto che ho già sprecato Molto tempo con l'episodio Ora iniziamo Ok allora La prima cosa che voglio andare a fare oggi Prima che me ne dimentico E andare a controllare Un assimo La nostra Turtle Perché penso che abbia finito Da un bel po' di tempo Però non ce ne siamo accorti E per chi non sa Di cosa sto parlando Tempo fa abbiamo messo qua Una Turtle Qui vicino A scavare Vediamo Non la riesco di travedere Quindi è probabilmente Ancora sotto E voglio vedere Se ha finito di lavorare Ok allora Vedo della nostra Bedrock Quindi ha sicuramente finito Non so quali cose ci sono state tornate Perché alla fine Le ha già Mandate a casa Però qua ho dovuto Risettarla una volta Perché Si era chiuso il mondo E risettandosi tutto Appunto Non si è tenuto caricato Il chunk E Appunto Ho dovuto risettarla qua Però ora la possiamo togliere E Voglio anche controllare Un attimo Quanto fuel ha Giusto per Sapere Per vedere se la possiamo far ripartire Di nuovo un'altra volta Quindi mettiamola giù un attimo E vediamo Refuel Quanto fuel hai Hai Quasi 14.000 Quindi Ne è più che abbastanza Ed ora lo possiamo mettere Magari Contando 9 blocchi Da questo punto qua Di nuovo A fare un'altra cosa Perché lo sto rifacendo Perché alla fine Ci torna utile come cosa E non ci interessa molto Di questa parte di mondo Che poi possiamo andare Semplicemente a coprire Con Una striscia Di terra Quindi non è nulla di che Quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 Quindi qua la possiamo mettere Qua noi mettiamo la nostra cesta E ora qua le diciamo Exca Exca Vait 9 Perfetto E lui adesso andrà a farsi un altro giro Andrà a fare un altro quadrato Che speriamo di aver allineato giusto Vediamo se Arrivi perfettamente lì E sembra di sì Quindi sta andando perfetto E ora la lasceremo andare Finché non Non viene completata E ovviamente se finisce Il Il fuel Lo andrò a riempire Perché appunto Non penso che si possa fare 2 9x9 Senza Essere ricaricato O almeno non penso che spenda Meno di 14.000 di energia Quindi Probabilmente gli servirà una ricarica Ok allora Ora andremo a Completare un paio di progetti Che sono piuttosto Vecchiotti Beh non proprio vecchiotti Perché abbiamo iniziato Qualche episodio fa Però la prima cosa che voglio andare a fare È aggiungere qua Un piccolo scambio Per l'energia Allora Nel masserator Voglio metterci Il nostro transformer upgrade In modo da poterli Far Utilizzare la Medium voltage E poi Qua Vediamo se riusciamo a collegarlo In qualche modo Che non rendiamo il tutto Troppo grande Posso mettere qua Il nostro transformer Che guarda magari Dalla direzione giusta Poi andrò A riparare tutto il cabling Più tardi Adesso Non ci interessa Posso metterlo qua Poi posso richiudere qua Posso richiudere i cavi E penso che se faccio così Dovrei riuscire A collegare il tutto Senza far esplodere nulla Speriamo di sì Ok non è esploso nulla Controlliamo l'energia Qua c'è E anche qua c'è Perfetto Ok quindi sta andando E poi dovrò andarle Attivare in qualche modo Con delle leve Ma per ora Non lo andiamo a fare Comunque quello che voglio Andare a fare qua Invece è aggiungere qui Un altro di questi nostri M-cable Con l'export bus E voglio andare a metterci Una ender chest Che ho fatto Bianca grigia bianca E questa qua Ci servirà Per andare a fare L'output Di un certo tipo di item Allora Questa qua ci servirà Per andare a fare L'item Del tin L'andremo a comandare Tramite una leva Perché non vogliamo Che tutto il tin Ci vada via O che venga utilizzato tutto Quindi Andremo a mettere qua Il nostro tin E gli diremo Di spostarlo Tutto qui dentro E gli diremo Di attivarsi Solo quando c'è Un segnale di redstone O quando non c'è Scusate Quindi qua Se noi adesso mettiamo La nostra leva Si ferma tutto Se io riattivo Potete vedere che Tornerebbero A rientrare i blocchi Però sono finiti Però se li rimetto Tornano comunque qua Ed ora Fatemi dormire Un secondo In modo che possiamo Anche avventurarci fuori Perché quello che voglio fare È cercare In qualche modo Di completare L'altra parte di là Allora Mi sono portato Un ender chest Un paio di fabricator Le mac cable Che abbiamo appena preso Queste cose Non ci servono E ho anche come Un timer Dei filter Però Penso di aver lasciato I tubi E le cose In redstone qua Quindi controlliamo Questi nostri fabricator Eccole qua Quindi vediamo Ce ne serviranno Diciamo 4 E anche 4 tubi E quello che voglio fare È diciamo Posizionare Più o meno Sì qua Il nostro Fabricator Anzi un blocco Più indietro La nostra ender chest In modo che abbiamo più spazio Poi i nostri fabricator Così E poi Anzi no Possiamo farlo anche un blocco in avanti Così non abbiamo neanche il problema Di fabricator Quindi 1 2 E l'ender chest Al centro E poi abbiamo i nostri filter Un filter che guarda direttamente Nel nostro bottler E l'altro Lo mettiamo qua E ora lo giriamo Con il nostro Gravitool Se Ecco qua E poi lo colleghiamo così Quindi è praticamente fatto Poi ci servirà un blocco Vediamo se ne abbiamo ancora Che ci rimangono da qualche parte Qui dentro Per quando stavamo lavorando Non sembra Però abbiamo delle Cover Quindi possiamo utilizzare Una di quelle Metterla qua E sopra metterci il mio timer Con Un paio di fili Che sti fili Andranno uno qui E uno qui E dovrebbero attivare i filter Vediamo Sembra di sì Ora dobbiamo solo mettere Il recipe Delle Nostre Ken Quindi cerchiamo Ken E facciamo spazio O forse Tin Ken Forse viene meglio Tin Ken No non quelle Quelle normali Quelle che si fanno con tre pezzi Vediamo Anzi Visto che ci sono Prendiamo tre pezzi di qua E facciamo La nostra cosa E almeno anche testiamo E utilizziamo il tutto E dobbiamo stare attenti Che non ci produca Le nostre Tin nugget Che non ci interessano Quindi Ora dovrò Ritrasformarle Ma non importa E praticamente Quello che succederà ora Sarà che Ogni volta che ci sarà Spazio per delle Ken E ogni volta che ci sarà Del tin dentro Verranno mandate Appunto al nostro sistema E verranno utilizzate Tutte le Ken possibili Per Diciamo Imbottigliare In qualche modo Il nostro Il nostro biofuel Che stiamo producendo qua Quindi al momento Non sta producendo nulla Perché Non fai La nostra cosa di tin Ah poi qua dovrò andare a dire Che può tirare fuori Solo le Ken E non il tin normale Se no ci tira fuori tutto Vediamo Craftiamone un po' Come si fa? Al contrario? Si si fa al contrario Quindi Ne mettiamo qua E gli diciamo di tirare fuori Solo 12 di Ken E lo facciamo anche Per l'altro lato In modo da avere tutto Setappato e tutto pronto E poi risettiamo anche I nostri Fabricator In modo da poter Avere il crafting giusto Quindi risettiamoli Nel modo giusto Questo lo togliamo E lo mettiamo qui sopra Ora ne sta producendo A bizzefe E quello che succederà Ora è che Tutte le Ken verranno Prese da un sistema unico Quindi Ne andrò a Spargere un po' Di qua un po' Di là In modo da avere Più o meno la stessa quantità Da entrambi i lati Sperando che L'intero sistema Si bilanci Più o meno da solo Ma speriamo di si E vediamo Si sembra piuttosto bilanciato Dai non è sbilanciatissimo Ed ora Se togliamo questi nostri Tin da qua Dovrebbero iniziare A imbottigliarsi Le nostre Ken Però Potete vedere che Non ci permette Di inserirle qua Ma dovrebbero andare qua Allora questo problema Penso che sia un problema Che riguarda Più che altro Da dove le stiamo inserendo Quindi mi sa che Dovrò andare O a rialzare O trovare il punto giusto Però è Diciamo Il metodo che andremo A utilizzare è questo Ci tocca solo Un po' spostarle E inserirle Nel lato giusto Ok allora Ora invece Voglio andare Finalmente a finire Questo nostro progetto qua Mi sono preparato Un sacco di item Nell'inventario Quindi iniziamo subito Allora Prima cosa che voglio fare È creare un piccolo pannello Lungo sette Che ci servirà Per mettere Tutti i nostri Cartelli Con le luci E le cose varie Per sapere Quale blocco È quale O più che altro Quale leva è quale E dovrei andare A recuperare Un po' di cartelli A casa E visto che devo anche Tornarci per prendere Un po' di legno Ci torniamo comunque Allora Voglio recuperare Quattro Anzi cinque cartelli Perché sono cinque diverse leve Quindi prendiamoli Dove sono Non li vedo Eccoli qua Uno due tre quattro Cinque Ecco qui Perfetto E poi mi serviranno Cinque pezzi di legno Normale Che mi serviranno Giusto per Rendere tutto un po' Più bello da vedere E quello che andremo a fare Dietro di questi Sarà una piccola cosa Molto molto semplice Allora Qua andranno I nostri pezzi di legno Dove andranno le nostre leve Quindi una leva Per ognuno dei nostri Piccoli progetti Qua ce n'era una per terra Perché si vede Che l'ho droppata Per sbaglio Le andremo a abbassare tutte Perché questo sta a significare Che quando sono Messe in questa posizione qua Il nostro sistema è spento Quindi se una luce è accesa Il nostro sistema è spento Se una luce è spenta Significa che Stiamo producendo Quell'item lì Quindi abbiamo Bianco, arancione Magenta Poi abbiamo Light blue E poi giallo E lì sopra Invece voglio inserire Cartelli Che andremo a inserire Uno per ogni item E andremo a dire Che item stiamo producendo Quindi Visto che me li ricordo A memoria Li inseriamo subito Abbiamo ferro Poi abbiamo oro Oro Perfetto Abbiamo diamante Diamante E abbiamo Tin E copper Prima copper Penso Vediamo Controlliamo Perché forse L'ho cambiato Di posizione Abbiamo prima Copper Sì E a proposito Voglio farvi vedere qua Un piccolo problema Che abbiamo È che certi item Tornano dentro Queste pipe Quindi è un po' Un problema Io quello che dovrò Andare a fare Perché mi sono accorto Di questa cosa Giusto prima Dovrò praticamente Andare a dire Ad ognuna delle nostre Emerald pipe Che possono tirare fuori Tutti gli item Sulla loro linea Quindi per esempio Se io rompo Questa qua Dei diamanti Posso romperla Del tutto E ora Li devo dire Che lei può tirare fuori Sia i diamanti Sia Il nostro Iron Dust Quindi questo Lo devo inserire qua Come seconda cosa E poi se Ricopriamo nove Pezzi di Umatter Da qui dentro Anzi prendiamo Uno stack intero Giusto per Farla finita Possiamo metterne Nove qui dentro In modo da produrci Un diamante E possiamo dirgli Di tirare fuori Anche i diamanti Quindi è giusto Un fix Molto molto semplice Che andrò a utilizzare Per non dover Overcomplicarmi La vita E poi li diremo Redstone signal All Energy pulse E qua la stessa cosa Andiamo a rompere questa E facciamo la stessa cosa Anche nell'ultima di là Ma non è Un problema Così grande Li diremo che può tirare fuori Sia quelle di ferro Sia il diamante Sia quelle che produce lei Che sono Il nostro Tin Ok perfetto E E aggiungiamo questo Perfetto E ora Rimettiamo qua Il nostro Pulser Per tirare fuori E in quest'ultima Dobbiamo mettere la stessa cosa Solo con L'oro Quindi tiriamo fuori Giusto un po' Giusto per poter Riscrivere L'intera nostra Pipe Rimettiamola E lì diciamo che può tirare fuori Oro E copper In modo da poterle tirare fuori Entrambi E non bloccare L'intero sistema Poi andiamo a rimettere La nostra pipe E dovrebbe essere Completato tutto Quindi se ora Rimettiamo Tutte le cose nel sistema Posso semplicemente Buttarle qua Che è un po' Più semplice per me Abbiamo praticamente Fatto tutto Quello che ci serviva Ora voglio completare Qua L'ultima parte Che è quella di andare A collegare i cavi Allora Il cabling Non sarà per nulla Difficile Perché alla fine Saranno solo dei cavi Uno dietro l'altro Quindi qua Avremo bianco Poi avremo Quindi bianco Arancione Magenta Light blue E Come si chiama Giallo Però potete vedere Che così Non si attivano Perché Perché non sono collegati Al muretto Dove si trovano Le nostre leve Quindi dobbiamo andare A collegare così Però potete vedere Che non funziona Perché Perché abbiamo Un bel poco spazio Qua Quindi non so Come andremo a fare Allora Pensavo di prenderle Da il livello sotto Però non so Se arriva il segnale Di energia Anche nel livello sotto Quindi ora Ci proviamo insieme Almeno Vi faccio anche vedere Un po' Come la penso Io E come Diciamo Mi innovo le cose Quindi Se io metto qua Un nostro Bianco E poi collego Così in qualche modo È possibile Non penso Quindi non possiamo Far così Se io metto qualcosa Non c'è segnale Quindi potete vedere Che è un pelino Complicata Allora Si potrei portare avanti Il nostro Il nostro pannello Ma mi piace Perché è proprio A fianco Alla nostra farm Oppure lo potrei mettere Di lato Ma non mi piace Molto di lato Quindi Si è un po' Un problema Allora Se io metto qua Un nostro bianco In modo da poterlo Attivare Poi faccio così Lì non arriva il segnale Qua non arriva il segnale Quindi è solo dietro Questo blocco Ok È un po' Un problema Perché abbiamo Questo Diciamo Un garbuglio Di fili Però Forse lo possiamo risolvere Portando in avanti Tutto Quindi togliamo Questi nostri cavi qua Togliamo le divisioni Che avevamo prima Che forse le possiamo Anche riutilizzare E mettiamo I nostri timer Direttamente lì E poi questi Li colleghiamo Di un blocco Più in avanti Quindi abbiamo Bianco Ricominciamo da capo Vediamo bianco Poi abbiamo Vediamo che colore Arancione Magenta Arancione Magenta Light blue Che è azzurro E poi giallo E poi lì andremo a mettere L'ultima nostra parte Poi possiamo spostare in avanti Il nostro bundle cable E così dovrebbe funzionare Quindi ora possiamo Ripiazzare Anche di qua Bianco Vediamo che colore abbiamo Giallo qua Light blue Magenta Anzi no qua Magenta E qua arancione E poi qua Possiamo andare a collegare Il tutto di nuovo Come prima Solo che ci mettiamo Le strip in mezzo In modo da non far Connettere i nostri fili Quindi abbiamo risolto Ok perfetto Qui così E dovremo andare a mettere Le strip anche lì Quindi invece di mettere Le strip Ci possono mettere Direttamente delle cover Almeno si separano Del tutto Quindi qua cover Qua cover E anche qui in fondo Cover Perfetto E ora dobbiamo solo Connettere questo E posizionare I nostri timer In modo che funzionino Allora li andremo A mettere tutti Nel tempo minore Quindi andiamo A premere Il meno 10 secondi In modo che si risettano Tutti al tempo Minore possibile E praticamente Quello che succederà Quando io vado A disattivare Una leva Che per esempio Disattiviamo quella Del ferro Il nostro Il nostro Retriever Andrà a recuperare Della Wumatter Ne andrà a recuperare Un bel po' Perché è piuttosto veloce Come macchinario E una volta fatto quello Le andrà a buttare Qui dentro Che andranno a produrre Il nostro Il nostro ferro E poi verranno tirate fuori Da sistema E mandate Probabilmente A certe in qua E poi nel resto Del nostro sistema Fino a casa nostra Quindi è praticamente Completo Per ora ci andremo a fermare Con questi 5 item qua Perché sono quelli più base Che potevo fare Se nel futuro Ce ne serviranno Altri li andremo a continuare Tanto abbiamo tanto Di quello spazio Che sicuramente Non è un problema Ok allora Per concludere In bellezza Quest'episodio Andremo a vedere Una texture La texture Che sto utilizzando Si chiama Sortex Non ve la posso far vedere Perché dovrei uscire Però eccola qua È veramente Veramente dettagliata È molto Molto Pesante da utilizzare Per quello Per quello Forse mi vedrete Un po' Lagghicchiare Ma non è una cosa Un po' Estrema Abbassiamo un po' I video setting Mettiamo in short Almeno non laggo Da bestia Però potete vedere Che è piuttosto carina Non l'andremo a utilizzare Perché come avete capito Già Tutte le mod Che utilizziamo Sono estremamente Importanti E pesanti Magari utilizzare Una texture pack Così pesante Potrebbe essere una cosa Un po' difficile A fare Comunque È una texture pack Che è più o meno Compatibile Con tutti i blocchi E tutte le mod Che abbiamo installate Tranne per certe Potete vedere Che perfino Quelle della nostra Industrialcraft E anche quelle Della Gregtech Sono reskinnate Con la skin stessa Però potete vedere Che è piuttosto carina L'unica che penso Che non abbia un reskin È quella di Towncraft Però voglio farvi vedere Quanto è figa La quantum suite Quando abbiamo questa mod Allora se io la tolgo E magari la metto Al posto della mia Che è comunque Piuttosto carina È estremamente Vega Non so Mi piace un sacco Mi sa che andrò a cambiare La quantum suite In questa Anche quando non sono In minecraft Perché Non so Mi piace un sacco Che sono passati Da un'armatura A praticamente Una Un costume In giacca e cravatta Così E senza motivi In più La cosa più carina Da notare È il dettaglio Che ci hanno messo Nella texture pack Stessa Che se notate Sulla giacca Io c'ho Un pallino verde Come ce l'ho Sulla quantum suite Body armor Quindi ci hanno messo Un bel po' Di dettaglio Anche le ender Ce sono colorate Ok Quello non lo sapevo Non me ne ero neanche accorto Però potete vedere Che è Diciamo una texture pack Piuttosto interessante È molto Molto carina È molto Molto pesante Quindi se la volete utilizzare Vi consiglio di avere Un computer Piuttosto Buono Perché se no Non ce la fate Non mi piacciono molto Le librerie Sono troppo Unicolore Però quelle invece Di Bibliocraft Invece sono piuttosto carine Cioè non sono venute malissimo Veramente complimenti A chiunque Ha lavorato Questa texture pack Mi piace veramente Un sacco Comunque Mi dispiace dirlo Ma per questo episodio È tutto Perché siamo già Oltre 20 minuti Quindi Vi ricordo di lasciare Mi piace Come commentare Iscrivervi Fare tutte le cose Che dico In ogni tanto e singolo episodio E vi ricordo di lasciare Un commento Rispondendo alle domande Del giorno Se volete aiutarmi E di lasciare Un commento Anche con qualsiasi idea Per avere la vostra possibilità Di essere il commento Del giorno E nulla Dunque si saluto Bella raga Qui Danifra